Buonasera, alcuni di voi, magari tra i non più giovanissimi, dico non più giovanissimi perché non hanno magari una grande pratica con la tecnologia, mi chiedono qualche consiglio perché desiderano cominciare a fare delle letture e magari a postarle, a volte insegnanti che intendono postare racconti o letture varie per gli allievi, magari ad uso scolastico, ma non solo oppure persone che intendono leggersi delle composizioni che hanno fatto e postarle su Youtube e quindi mi chiedono qualche consiglio su come fare, su come leggere Sembra in realtà una cosa molto semplice, no? In realtà non è così semplice Ci sono varie componenti che creano il fatto lettura, narrazione e poi varie esigenze che richiedono diversi approcci e anche diverse conoscenze diciamo anche proprio dal punto di vista dell'uso di un software Per leggere e per postare qualcosa, specie su Youtube, bisogna usare dei software e bisogna usare degli strumenti oltre ad avere alcune competenze per leggere Io ovviamente l'ho sempre detto, non sono un attore, non sono un arratore è un'esperienza che mi sono fatto un po' alla volta però anche l'esperienza serve, un po' si migliora nel tempo e allora da questo punto di vista mi pongo nell'ottica di poter dare una mano a chi vuole iniziare facendogli capire anche cosa può servire cosa può servire sia di competenze personali nel campo della lettura insomma quali sono gli accorgimenti che serve avere quando si legge ma si legge non per se stessi ma per farsi ascoltare dagli altri sia quali sono gli strumenti che offrono i possibili risultati perché una cosa è chiara, 15 anni fa quando cominciava Youtube bastava una semplice web da pochi soldi bastava poco, le esigenze erano poche perché tutti quanti facevano le cose male come potevano ma poi in questi anni è andata molto affinandosi la tecnica, la tecnologia la qualità delle immagini, la qualità dell'audio i requisiti tecnici certe cose che prima potevano passare adesso non passano più e quindi bisogna sapere che ci vogliono dei prerequisiti per cominciare a postare e ci vuole anche una certa pazienza perché a meno che non ci si rivolga non so, ai propri alunni quindi a quei 30 ragazzini e basta aprire un canale Youtube con i tempi che corrono e avere un certo seguito richiede tanta pazienza bisogna cominciare a fare, fare, mettere e aspettare, aspettare, aspettare spesso nel primo anno, secondo anno non succede niente ci si illude ma poi succede poco e soprattutto quando si comincia poi ci si espone in qualche modo si vorrebbe anche essere riconosciuti si vorrebbe che qualcosa succedesse se non ci guarda nessuno se facciamo 10-15 visualizzazioni al video a un certo punto ci stanchiamo e allora si rischia di aprire un canale e poi di chiuderlo mi rivolgo sempre ai canali dedicati alla lettura insomma alla narrazione al racconto di libri o di storie insomma e allora vale la pena quando si comincia a fare questa cosa sapere quello che ci aspetta sapere che strumentazione ci può servire per quanto semplice per quanto si voglia spendere poco e che software bisogna imparare ad usare armarsi di pazienza e anche che conoscenze dobbiamo un po' avere insomma come si porta la voce come si usa come si fanno le pause come si sviluppa una frase come si devono pronunciare le parole correttamente sono cose che magari ci sembra di saper fare bene perché ovviamente tutti quanti parliamo tutti quanti abbiamo sempre letto tutti quanti ci sentiamo in grado di farlo quando poi lo dobbiamo fare per gli altri la cosa è un po' diversa anche perché ovviamente come tutte le cose che sono apparentemente semplici no? naturali mi viene in mente anche la poesia no? quanti? non si mettono a scrivere poesie una figura retorica un abbinamento di una frase che ci piace e siamo tutti poeti ma proprio perché potremmo essere tutti poeti perché ognuno di noi potrebbe scrivere dei versi scrivere dei versi che siano interessanti che siano profondi scrivere buona poesia è molto molto difficile a volte è più difficile che non fare qualcosa che ci richiede magari un apprendimento quando ero piccolo magari ho cominciato le prime lezioni di pianoforte dicevo ma insomma pianoforte facilissimo basta schiacciare i tasti e poi mi sono accorto che che non è vero i tasti sono tutti là le mani le dita sono là ma anche schiacciarli giusti non basta bisogna schiacciarli in maniera coordinata in maniera che sia il cervello a dirigere le dita a sapere quello che si vuol suonare ad avere in mente le frasi musicali che si vogliono suonare e così via e quindi il processo è molto laborioso e richiede un apprendimento e così anche quindi anche per la narrazione insomma si richiede un apprendimento magari non un apprendimento scolastico c'erano anche tanti bravi pianisti che sono autodidati però un apprendimento legato all'esperienza legato soprattutto alla capacità di ascoltarsi imparare ad ascoltarsi sia nella lettura come nella musica è una delle cose principali ascoltandosi si impara di volta in volta a riconoscere gli errori si impara ad affinare il gusto ti piace sempre meno quello che fai e capisci come dovresti o potresti farlo meglio e allora ci provi a furia di provarsi ci si riesce il mio proposito ma non so se riuscirò a mantenerlo però insomma serve quello di fare qualche piccolo tutorial o una serie di tutorial cominciando proprio dalle cose base perché mi accorgo che quando qualcuno diciamo mi interroga e io provo a spiegargli cosa bisogna fare eccetera eccetera un po' prende paura no e allora o rinuncia in partenza oppure dice oddio no sembra che sia una cosa così mentre si aspettava così è un consiglio molto banale si aspettava qualcosa che poteva essere molto facile in realtà non è così bisogna cominciare a parlare di tante cosette insomma che vanno messe insieme e delle quali non bisogna spaventarsi insomma se avete voglia di provare di mettervi a fare queste cose di leggere libri insomma tutti quanti potrete riuscire ma sappiate che ci vuole intanto tanta pazienza tanto lavoro tanta dedizione e poi ci vogliono alcuni prerequisiti e soprattutto per chi comincia magari a una certa età e almeno dimestichezza con la tecnologia anche un certo apprendimento dal punto di vista della tecnologia chi mi ha telefonato per ultimo per sapere qualcosa in merito mi ha fatto capire che per esempio lui usava il cellulare per registrare no col cellulare si possono fare dei piccoli video in cui si può parlare e si possono postare oppure si può anche registrare registrare la voce ovviamente sono due cose diverse sicuramente se si fanno dei video bisogna poi col cellulare bisogna poi comunque saperli montare quindi bisogna portare insomma questo video su un computer su un software di video editing e lì bisogna saper smanettare un pochino insomma bisogna conoscere come funziona questo software di video editing per poter montare un video anche semplice che si fa col telefonino se no si può postare e condividere direttamente qualcosa ma è così diciamo così in maniera spontanea come è stato fatto senza nessun intervento piccole cose possono essere fatte anche così cose un po' più impegnative richiedono invece un'elaborazione insomma richiedono invece l'uso di un software così anche quando si vuol narrare una storia si può narrarla col telefonino e poi la si può condividere così com'è ma se si vuol fare qualcosa che sia un attimo interessante non basta narrarla col telefonino perché trovano poi rumori di fondo si trovano tante cose che non vanno si trovano magari delle cose che si vorrebbero correggere è necessario fare un montaggio e una elaborazione dell'audio che si è fatto no e poi quando si registra col telefonino ci sono anche dei limiti della qualità audio che il telefonino ha però mi veniva in mente che prima di parlare di strumentazioni più complesse potevo dire qualcosa e fare un primo esempio insomma di come si può registrare col telefonino e poi intervenire su quello che si è fatto su quello che si è registrato attraverso il telefonino e quindi proviamo a partire col telefonino la prima cosa che mi viene in mente è che quando usiamo il telefonino per registrare mettiamo un raccontino ci conviene avere un un registratore insomma un'applicazione che serva per registrare allora io ho provato a fare anche degli esempi insomma una prima strategia a vedere cosa avviene fuori no prendiamo per esempio una un'applicazione ho provato a scaricare sul sul mio cellulare un'applicazione che si chiama Super Recorder dallo store insomma il mio cellulare è un Samsung ho scaricato questa applicazione che vi faccio vedere in fotografia questa applicazione una volta scaricata mi compare come Eucona nel cellulare questa applicazione va un attimo impostata perché è importante che il formato attraverso il quale registriamo sia un formato mp3 per poterlo poi elaborare al computer e fare quella valorazione che dicevo la qualità di registrazione è opportuno che sia la migliore possibile insomma la più alta compatibilmente con la memoria che avete nel cellulare e con la lunghezza delle cose che volete registrare in audio impostato questa cosa voi potete già cominciare a registrare ecco quando registrate proverete insomma no toccate il pulsante rosso e vedete che compaiono i secondi di registrazione e compare anche un grafico adesso io ho fatto dei piccoli schiocchi con le dita e sono comparse queste queste linee se voi parlate compaiono delle onde quella che vedete al centro è la linea di base in questo modo voi ottenete una registrazione di quello che state dicendo poi l'applicazione vi chiede il nome del file che avete registrato voi gli date un nome e non so io gli ho dato infinito e poi ve lo mette così a questo punto vi trovate il file registrato vedete anche la lunghezza del file 1,11 megabyte e anche la durata di questa registrazione 27 secondi a questo punto il problema diciamo quello per cui faccio anche questo video è quello che voi dovete poter intervenire su quello che avete registrato e per poter intervenire su quello che avete registrato dovete a questo punto collegare il computer con un cavo quello che usate normalmente per caricare il telefonino inserite la presa usb nel vostro computer e lo collegate poi con il cellulare e nel momento in cui è collegato con il computer come in qualsiasi dispositivo esterno voi vi troverete l'icona nel desktop del computer vi troverete l'icona del cellulare questo è il mio cellulare e l'icona del mio cellulare andando a cliccarla compaiono poi le due componenti diciamo la memoria interna del cellulare la scheda che è contenuta nel cellulare posso vedere quanta memoria occupata quanto è disponibile ma a questo punto devo andare a cercare qui dentro il file che ho registrato per trascinarlo poi nel desktop del computer adesso io lo so insomma ma cliccando su phone io apro alcune cartelle mi interessa soprattutto questa cartella super recorder aprendo questa cartella ne trovo altre di cartelle trovo recorder allora andando in questa cartella recorder io troverò il file che ho registrato infinito prenderò il file e lo trascinerò poi dalla cartella nel desktop del mio computer adesso ce l'ho nel mio computer il file ed è a questo punto che io posso intervenire su questo file come con un programma è un programma che potrete trovare gratuitamente e scaricare gratuitamente in rete si chiama audacity una volta che avrete scaricato il vostro programma se a qualcuno interessa insegnerò o ci sono tanti tutorial che insegnano a scaricarsi questo programma dalla rete voi troverete il programma che ha questo aspetto vedete che ha tanti strumenti come un po' in generale i programmi non occorre che registriate perché vi dà la possibilità anche se lo collegate con un microfono di registrare ma voi il file ce l'avete già per cui non fate altro che trascinare il file all'interno di questo programma si presenterà in questo modo una linea di base con tante onde raggruppate perché tra un gruppo di onde e un'altra ci sono i silenzi ci sono le pause che noi facciamo quando parliamo e quindi voi vedete che ci sono le onde che corrispondono alla vostra voce con questo programma potete lavorare potete cercare di ottenere la qualità migliore della vostra voce ma soprattutto potete anche eliminare le cose che non vanno potete cercare di togliere il rumore di fondo registrando dal telefonino come vedete la linea di base è abbastanza pulita quindi c'è poco rumore di fondo però diciamo così registrando dal cellulare la qualità del suono quella che almeno risulta a me è metallica e perché è metallica ecco se noi facciamo lo spettro del suono che abbiamo registrato dal cellulare possiamo vediamo che che abbiamo questa diciamo questa configurazione dell'analisi delle frequenze e vedete che le frequenze del suono che abbiamo registrato arrivano soltanto fino a 2000 Hz quindi la registrazione che io ho fatto col mio cellulare con questo programma con questa applicazione manca di tutte le frequenze alte quindi il suono assume una caratteristica non bellissima metallica un po' fastidiosa da ascoltare vedete anche che in genere il picco diciamo di frequenza è intorno ai 100-150 Hz per una voce maschile qui poi si aggiungono delle frequenze che anche queste determinano una certa qualità fastidiosa del suono con questo programma comunque è possibile intervenire cioè non è possibile aggiungere frequenze dove non sono state registrate ma queste frequenze queste più alte le frequenze tra i 300-400 Hz e i 500 Hz possono essere in qualche modo modificate soprattutto ridotte attraverso uno strumento che si chiama equalizzatore poi questo programma da parecchie opzioni per elaborare il suono ma di queste ne parleremo un'altra volta mi interessava in questo primo video che capiste soprattutto quando avete a disposizione soltanto il cellulare che si può registrare dal cellulare ma che si può anche poi intervenire quindi usando il cellulare come microfono e poi si può intervenire sul file che avete ottenuto dal cellulare per poterlo in qualche modo modificare e migliorare però ho cercato anche di dimostrarvi vedendo le frequenze che voi ottenete della vostra voce come registrando dal cellulare poi manchino molte delle frequenze che danno alla voce un tono più caldo meno metallico e quelle frequenze che mancano dal cellulare non ce le potete aggiungere il primo concetto insomma che vorrei che passasse è che se volete fare un qualcosa che non sia assolutamente così direttantesco rivolto soltanto a poche persone conoscenti eccetera la registrazione dal cellulare non è sufficiente anche se elaborate poi se si riesce a elaborare la voce una volta registrata dal cellulare comunque il risultato sarà sempre un po' deficitario anche se questa voce è pulita cioè nel senso che non ci sono rumori di fondo particolari quindi non ci sono tanti artefatti in questa registrazione che ho fatto non c'erano artefatti degni di nota ma pur non essendoci artefatti la qualità del suono è metallica è particolare perché manca di determinate frequenze quindi se poi volete invece registrare diciamo meglio quindi avendo a disposizione poi tutte le frequenze e potendo anche poi tagliare già registrando alcune bande di frequenza che sono fastidiose soprattutto le frequenze più basse per la voce allora in quel caso lì non non basterà più registrare con il cellulare bisognerà passare o a un registratore vocale di una certa qualità oppure a un microfono nel momento in cui userete il microfono però dovrete anche pensare che la scheda audio del computer non è buona per la voce e quindi dovrete abbinare a un microfono di una certa qualità anche una scheda audio o qualche altra strumentazione che contenga una scheda audio a cui collegare il microfono per questa volta mi fermo qua se avete piacere che proseguiamo insomma con con questi consigli che provo a darvi insomma che provo a dare soprattutto ai più inesperti di voi perché gli altri li sanno benissimo gli altri sanno benissimo queste cose insomma però diciamo a quelli che vogliono approcciare che non hanno un'esperienza alle spalle o non hanno conoscenze tecniche alle spalle magari possiamo andare oltre possiamo per esempio cercare di vedere meglio quali sono le funzioni di Audacity e poi cosa succede le differenze che possiamo trovare quando registriamo invece con un registratore vocale oppure con con un microfono come quello dal quale sto parlando io e quali sono i problemi che si pongono anche registrando con questi strumenti e poi magari possiamo anche parlare insomma di tutti quelli che possono essere i modi insomma di raccontare insomma quanti quanti stili diversi ci possono essere insomma quante scelte diverse si possono fare nelle modalità con cui usiamo la voce o con cui proviamo a narrare delle storie e anche magari gli stili diversi che dobbiamo provare a mettere in campo a secondo del tipo di lettura che facciamo insomma no tanti problemi che costituiscono poi alla fine una grande massa di potenzialità insomma no di scelte che ci troviamo a fare quando proviamo a narrare una storia insomma quando proviamo a raccontare qualcosa non soltanto per noi stessi ma anche per gli altri una buona serata